Buonasera a tutti, benvenuti a Giovediscienza, benvenuti al Teatro Colosseo. E invito a prendere posto su una delle due sedie qui il nostro gonghista per questa sera. Prego. Ne abbiamo trovato uno solo per adesso, un solo volontario, ma se c'è qualcuno che vuole farsi avanti è il benvenuto. C'è ancora un posto a disposizione. Allora a lui chiediamo di provare un momento il microfono e approfittarne per presentarsi. Salve, io sono Paolo, studio qua a Torino, biotecnologie industriali, quindi dovrei capirci qualcosa stasera. Immaginiamo di sì, comunque. Proviamo anche il gong. Ecco lì c'è la mazza apposita, un colpo secco. Perfetto. Allora io vi dico ancora una comunicazione, no anzi, spieghiamo che cosa serve questo gong. Il nostro Paolo avrà la possibilità di interrompere in qualsiasi momento la conferenza per fare una domanda, ovviamente attinente al tema, a sorpresa. Quindi noi adesso lo sappiamo, però... Una sola volta. Una sola volta. Data l'esperienza poi ce lo dimentichiamo e quindi ci sorprenderà, ecco. Bene, a questo punto mi siedo anch'io a fianco a Piero Bianucci, che conoscete bene, per introdurre e salutare il nostro ospite. Il nostro ospite è Pier Paolo Pandolfi, è un genetista molecolare e oncologo, ma in realtà poi scopriremo che è o è stato o più probabilmente continua a essere anche molto altro. Lui dirige un centro per la ricerca e la cura del cancro a Boston, è professore alla Harvard Medical School, sempre di Boston, ed è professore anche all'Università di Torino, dove insegna biologia molecolare. Ha vinto una trentina di premi o forse anche qualcosa di più, però nasce come... 34. 34. Però nasce come filosofo. Piero, tu che lo conosci forse un po' di più. Mi inserisco. Beh, intanto io vorrei dirvi che se battete Pier Paolo Pandolfi e andate a vedere quante citazioni ha e guardate il grafico degli ultimi, diciamo, dieci anni, scoprirete che è uno degli scienziati più citati al mondo, nel suo campo è un nome straordinario, che noi conosciamo meno di quanto non sia invece conosciuto negli Stati Uniti, e quindi sono molto contento di averlo qui in Italia con noi. Allora, battete Pier Paolo Pandolfi, andate a vedere con Google quante citazioni, sono migliaia di citazioni all'anno, regolarmente, tutti gli anni, quindi è una carriera costantemente al top. Detto questo, la cosa curiosa è che, almeno all'inizio, Pier Paolo Pandolfi non pensava di fare questo tipo di lavoro, ma era, mi pare, attratto dalle discipline umanistiche, e forse in particolare della filosofia. Allora gli chiederei, prima di incominciare il discorso che è il tema di questa sera, quindi giocare sulla scacchiera dei geni per battere il cancro, ecco, prima di questo mi piacerebbe sapere qualcosa dei suoi inizi. Buonasera a tutti, innanzitutto la mia carriera è veramente singolare. Io ho cominciato, ero figlio di due professori universitari che insegnavano rispettivamente letteratura francese e letteratura serbo-croata, all'Università di Roma e poi all'estero, e sono stato letteralmente cresciuto a pane e libri, pane e musica, pane e filosofia. Tant'è che avevo deciso di fare il filosofo di professione, mi sono iscritto alla facoltà di filosofia a Roma, e suonavo il pianoforte fino al quinto anno, più o meno di conservatorio, e non facevo altro che leggere, anzi, quando ero bambino mi ero invaghito di questa idea folle di dover leggere tutta la letteratura e tutti i classici, e perciò li divoravo una pressa all'altra. E a un certo punto, durante i miei studi filosofici, mi è letteralmente venuta una crisi filosofica, nonostante la filosofia mi piacesse, e mi piaccia tuttora tantissimo, al punto che quando sono arrivato a Boston ho pensato se fosse possibile di scrivermi a un dottorato in filosofia, poi non ce l'ho fatta perché c'è troppo da fare, e c'è tanto da fare, e tante belle cose da fare in scienza. Ma a un certo punto ho cambiato, e non solo ho deciso di fare il medico, mi sono iscritto alla facoltà di medicina, ma in maniera forse folle, ho deciso di fare il medico, nonostante già sapessi che volevo fare lo scienziato. E pertanto mio papà e mia mamma erano un po' perplessi, primo perché stavo perdendo un tempo infinito, e poi perché non condividevano fondamentalmente l'idea che io mollassi tutto questo bagaglio culturale che avevo, e non capivano neanche perché volessi fare il medico essendo, o avendo deciso di fare scienza. Ma quello che... Spieghiamolo, perché il medico si prevede che poi curi le persone, e quindi agisca sul campo, diciamo, invece lo scienziato fa ricerca. Lo scienziato fa ricerca, il medico applica queste ricerche, queste terapie, cercando di curare le malattie. Alla fine poi ho fatto entrambi, però mi sono subito deciso a fare laboratorio, a stare e a fare esperimenti, e quello che è successo all'ultimo anno di medicina è una cosa che poi ha cambiato la mia carriera, perché abbiamo scoperto i geni di una leucemia, che allora era un killer infallibile, e capendo la genetica, come vi racconterò nella mia presentazione, per farvela breve, questa leucemia, alla fine l'abbiamo sconfitta, l'abbiamo curata. E pertanto mi sono ritrovato all'ultimo anno di medicina, con in mano questa storia fenomenale, e due anni dopo mi sono trovato a New York a dirigere il primo gruppo di ricerca. Gli americani mi hanno messo coraggiosamente in mano, come dico sempre, una Ferrari, e ero molto intimorito, perché avevo pochissima esperienza. Fondamentalmente mi sono trovato da studente di medicina a dirigere un laboratorio a New York, e alla fine ce l'abbiamo fatta, e ce l'abbiamo fatta a sconfingere la leucemia, ce l'abbiamo fatta a fare altre belle scoperte, e a un certo punto Harvard University, che è il top of the mountain, come dicono, la cima della montagna. Gli americani pensano che sia la più grande università al mondo, gli americani sono senza dubbio molto pieni di sé, ma Harvard ha chiamato, nel 2007 ci ha chiamati, e siamo andati. E qui farei due osservazioni. La prima è che qualche volta sembra che uno perda tempo, invece ne sta guadagnando. Esattamente. La seconda osservazione è che gli americani, con tutti i loro difetti, hanno un enorme pregio, e cioè che quando vedono la capacità di competere, la capacità professionale, l'intelligenza, la riconoscono. E questo non sempre avviene in Italia, soprattutto non avviene nei confronti dei giovani. Cioè noi pensiamo che prima debbano essere stagionati e poi possano diventare intelligenti. Di solito invece sono intelligenti e poi diventano stagionati. Esattamente. Puntare sul talento, puntare sulla giovinezza, sull'entusiasmo, e puntare sullo straniero. Io ero straniero. In questo gli Stati Uniti sono molto aperti dell'intelligenza straniera. Però gli italiani lo capiscono benissimo, e lo capiscono benissimo in un altro settore, nel settore degli sport, o nel settore della musica. facciamo dirigere la scala. Lì se l'aspettano. Se l'aspettano. E stranamente non lo facciamo in altri settori. Però gli americani in relazione alla scienza e alla ricerca fanno quello che noi faremo gestendo una squadra di calcio top. Prenderemo il più bravo, giovane, talento e lo metteremo a giocare. Io avrei ancora due domande, se Alberto me le lascia fare. Una è... Ne hai facoltà? Grazie. Una è come si fa però per tanti anni a essere così in alto nella classifica delle citazioni, nell'H index, in tutti, in Google Scholar, dove volete voi andate a vedere, lui è in testa alla classifica. Come si fa? Perché credo che a questo punto si debba essere bravi, ma anche saper allevare un gruppo molto bravo. Ci vuole sicuramente talento, ci vuole creatività, ma quello che mi ha permesso di rimanere a un certo livello fino ad oggi è il fatto che io voglio curare il cancro e non mollerò fin quando non l'avremo curato. E questa spinta è talmente forte che ci porta a pubblicare bene, ma non perché vogliamo pubblicare bene, perché siamo tutti motivati dal fatto, tutto il mio gruppo, 5.000 persone nel mio cancer center, 40 persone nel mio laboratorio, lavoriamo tutto il giorno e tutta la notte con un solo scopo, curare il cancro. E quando uno lavora con quell'entusiasmo, scopre delle cose bellissime, fa delle importanti scoperte. E questo ti rende giovane. L'ultima domanda è il rapporto tra Pierpaolo Pandolfi e Torino, perché è vero che lui è quasi sempre là, ma ogni tanto è anche qui. Beh, ho avuto questo privilegio, diciamo, di essere chiamato lo stesso anno che sono stato chiamato da Harvard, dall'Università di Torino, e ne è nato nel 2007, un rapporto bellissimo con la città, con i miei colleghi che sono diventati amici. Mi sento a casa, mi sento fondamentalmente a casa. Io sono romano, lo sentirete anche dal mio accento, quando parlo velocemente esce fuori l'accento, ma questa è casa mia. Amo la città tantissimo e Torino mi ricorda tantissimo. Boston, tra l'altro, una città colta, una città raffinata, perciò sono molto felice di essere qua stasera con voi a Torino. E ora, E ora? E ora lasciamomi il palco e la parola per sentire questo meraviglioso racconto. Allora, quello che cercherò di fare stasera è soprattutto tenervi caldi, perché qui fa un po' freddo, ma ce la metterò tutta. Ma soprattutto voglio trasmettervi l'entusiasmo, la gioia e la bellezza per questo momento. Il cancro è una malattia tremenda, il mondo è in un momento molto difficile, l'America è in un momento difficile, l'Italia pure, ma c'è bellezza, gioia ed entusiasmo in quello che facciamo, e questo ci tiene in piedi. E vi racconterò di questa rivoluzione biomedica che ha letteralmente scosso il modo in cui diagnostichiamo le malattie, diagnostichiamo il cancro, le preveniamo e le sconfiggeremo. E vi parlerò di come questa rivoluzione biomedica in atto ci permetterà di sviluppare una medicina della ultra-precisione. Vi dirò perché abbiamo deciso di inventarci questo termine ultra-precisione che è nuovo. Voglio parlarvi di quattro cose e vi lascerò con dei punti che spero terrete con voi tornando a casa. Voglio parlarvi del perché c'è l'entusiasmo, dell'opportunità alla nostra portata, della sfida che abbiamo di fronte e dell'obbligo. E voglio rispondere pure a due domande che sono estremamente semplici, sono estremamente importanti e che sono nel fondo del mio cuore. Se vogliamo e possiamo veramente sconfiggere il cancro e cercare di convincervi del fatto che possiamo, e se possiamo alleviare le sofferenze che si associano al nostro decrescere e al nostro invecchiare e alla patologia oncologica che, come tutti saprete, è una patologia dell'invecchiamento. E vorrei cominciare dall'entusiasmo. Come tutti state pensando in questo momento, l'entusiasmo e la patologia oncologica possono sembrare opposti contrari. Non c'è niente da essere entusiasti quando uno viene diagnosticato cancro. E invece c'è vero entusiasmo. Lo vediamo negli occhi degli operatori, negli occhi degli oncologi, dei ricercatori, lo vediamo negli occhi e nei sorrisi dei malati. E il motivo per cui c'è entusiasmo è perché la malattia finalmente la stiamo sconfiggendo. e la stiamo sconfiggendo sulla base di tre fondamentali rivoluzionari cambiamenti, cambiamenti epocali, che sono avvenuti negli ultimi 5-10 anni. E vi darò, e cercherò di darvi, la dimensione temporale di questa accelerazione. Dovete ricordarvi che il cancro è una malattia che è sempre stata con noi, nell'antica Grecia, nell'antica Roma, il termine tumore, l'hanno coniato i greci, e lo stiamo sconfiggendo sulla base di rivoluzioni tecnologiche e concettuali che sono avvenute negli ultimi 5 anni. 3.000 anni, 5 anni. E vi farò vedere che cosa questo ci permette di fare. Abbiamo, e questo è il primo punto fondamentale, capito finalmente la logica della malattia, le sue regole e le sue basi molecolari. E pertanto possiamo giocare a scacchi con il cancro, perché lo capiamo, possiamo anticiparne le mosse al fine di sconfiggerlo. E questo ha cambiato radicalmente la terapia e il modo in cui fronteggiamo la malattia cancro. Tutti voi sapete che cosa è la chemioterapia e che cosa è la radioterapia. La chemioterapia e la radioterapia sono il logico prodotto dell'unica cosa che sapevamo del cancro per tutto l'ultimo secolo, e forse anche i romani e gli antichi irreci lo sapevano, che il cancro è una malattia in cui le cellule del nostro corpo incominciano a proliferare in maniera aberrante. E questa era l'unica cosa che abbiamo saputo del cancro fino a 30 anni fa. L'unica osservazione che ci ha permesso di ipotizzare che se avessimo utilizzato dei farmaci, la chemioterapia, o degli agenti fisici, la radioterapia, che vanno ad attaccare le cellule in attiva proliferazione, questo avrebbe potuto avere un qualche beneficio. E la radioterapia e la chemioterapia qualche beneficio l'hanno dato. Abbiamo guadagnato qualche anno, abbiamo sconfitto alcune forme di tumore, ma di sicuro non abbiamo vinto la guerra al cancro. Sapete tutti che la chemioterapia e la radioterapia hanno enormi effetti collaterali, e il motivo per cui hanno enormi effetti collaterali è che attaccano le cellule in attiva proliferazione. Nel nostro corpo tantissime cellule proliferano, le cellule del nostro sangue, della nostra pelle, dei nostri capelli. e pertanto queste terapie non sono specifiche, perché colpiscono tutte le cellule in attiva proliferazione. Il motivo per cui usavamo queste terapie è perché non sapevamo qual era il difetto molecolare che faceva impazzire la cellula nel nostro corpo e pertanto non potevamo fare altro che bombardare il cancro con queste terapie. Questo ha, di contro, lanciato l'idea che facciamo una vera e propria guerra al cancro, perché radioterapia e chemioterapia hanno molto a che fare con i bombardamenti, tant'è che l'amministrazione Nixon, nel 1970, ha firmato una vera e propria dichiarazione di guerra al cancro, the war on cancer. Il problema è che quando fate la guerra, quando facciamo la guerra, in linea di massima non capiamo l'avversario, è per quello che facciamo la guerra, altrimenti faremo i negoziati, altrimenti ci accorderemo, non c'è bisogno di bombardarsi, ci si può accordare, ma il bombardamento è l'unica cosa che uno può fare se non c'è comprensione. E pertanto la terapia che facciamo ora non è più una terapia del bombardamento, ma bensì una terapia del negoziato. E il motivo per cui negoziamo con il cancro è perché adesso capiamo che cosa le cellule tumorali fanno. E in analogia con un altro esempio che vorrei che vi ricordaste, se vi si rompe la macchina e non sapete come funziona il motore, l'unica cosa che potete fare è comprarvene un'altra o rottamarla. Ma se capite nel dettaglio come funziona il motore, allora potrete aggiustare lo spinterogeno, cambiare l'alternatore. Ed è questo esattamente quello che stiamo facendo ora, perché capiamo la logica e i meccanismi. E la prima cosa che abbiamo capito, alla fine le cose che abbiamo capito sembra tutto molto complesso, ma alla fine è semplicissimo. Abbiamo capito che il motivo per cui le cellule del tumore impazziscono è perché accumulano delle mutazioni all'interno delle unità geniche che controllano il funzionamento delle cellule. è come se si rompesse un fusibile, improvvisamente la cellula prolifera in maniera incontrollata. E siccome adesso sappiamo esattamente quali geni vengono mutati e quale sia il meccanismo, possiamo di contro sviluppare farmaci intelligenti e mirati che aggiustino lo spinterogeno, che aggiustino l'alternatore. La seconda cosa che abbiamo capito negli anni, ma questo sto parlando degli ultimi 30 anni, rispetto ai 3.000 anni della storia e più dell'umanità, è che i tumori non sono tutti uguali. Ci sono tanti tipi di tumore alla prostata, tanti tipi di tumore alla mammella, e questi tumori distinti sono associati a distinte mutazioni. Perciò ci sarà il tumore di tipo A con un gene mutato A, il tumore di tipo B con il gene mutato B, e così via. E pertanto questo ci ha permesso di seguire una logica molto precisa, che se vogliamo aggiustare il difetto molecolare, dobbiamo essere estremamente precisi e personalizzati. Non si può dare lo stesso farmaco a un paziente che abbia il tumore di tipo rosso, di tipo giallo e di tipo blu. Non possiamo aggiustare lo spinterogeno a una macchina a cui si è rotto l'alternatore. L'altra cosa che abbiamo imparato, negli anni di recente, è che il tumore all'interno del suo corpo evolve. Il tumore tende a evolvere, pertanto se lo lasciamo fare, acquisisce ulteriori mutazioni. E per tornare al tumore giallo, rosso e blu, è come se a un certo punto, se lo lasciamo fare, questo tumore abbia differenti corredi mutazionali. Ci sia un pezzetto di tumore che sia mutato per un gene, un altro pezzetto per un altro gene, e così di seguito. E questo vi dice un'altra cosa importante, che prima lo diagnostichiamo, e meglio è, perché se lo lasciamo fare, evolve. Ma se evolve, la logica ne segue, che non solo dovremmo essere precisi e personalizzati, ma dobbiamo usare farmaci di combinazione, dei cocktail di farmaci, perché dobbiamo aggiustare il difetto molecolare nella cellula rossa, nella cellula gialla e nella cellula blu. Ma se lo diagnostichiamo precocemente, il problema non c'è, perché il tumore è molto più semplice, e allora potremmo usare un solo farmaco. Il secondo aspetto rivoluzionario, e vi darò il senso del tempo un'altra volta, è che abbiamo ad oggi degli strumenti conoscitivi inimmaginabili, neanche cinque anni fa. Il primo strumento che abbiamo è questo mega microscopio, o telescopio, dipende se vi piace guardare dentro o fuori, gli astronomi guardano fuori, noi guardiamo dentro noi stessi, questa capacità di sequenziare il nostro genoma, il nostro libro della vita, onde leggere tutti i volumi, tutte le parole, dalla prima all'ultima, come volevo fare ingenuamente quando ero ragazzo, leggendo tutti i libri e tutti i classici della letteratura contemporanea. E per farvi il senso dell'accelerazione, basti ricordarvi che il primo genoma, il primo libro della vita, ha richiesto cinque anni di lavoro, dal 1998 al 2003, perciò stiamo comunque parlando di tempi molto recenti, cinque anni di lavoro, cinquemila persone, per il costo complessivo di tre miliardi di dollari. E se questo lo contrastate a quello che siamo in grado di fare ora, l'accelerazione è stata spaventosa. Possiamo sequenziare milioni di genomi, i genomi di tutti gli esseri umani, in meno di 15 minuti, usando un solo ricercatore, perché è tutto automatizzato, per un costo complessivo di 300 euro. 300 euro è il costo di un'analisi del sangue. Cioè, se voi andate a farvi l'analisi delle urine o del sangue, più o meno costa 300 euro. Per 300 euro noi potremo sequenziare il libro della vita della prima all'ultima base. Lo potremmo fare per tutti gli esseri umani, per tutti i tumori, per tutti i tumori nella loro evoluzione all'interno del nostro corpo. E mi piace farvi vedere questa slide, prima di tutto per svegliarvi, riscaldarvi, ma perché questo signore qui è un vero antesignano. Questo signore qui, non so se lo riconoscete, è un pazzo scatenato che si chiama Ozzy Osbourne ed è il leader dei Black Sabbath, uno dei più violenti, aggressivi, complessi di, non so, rock americano. Ma il signore è un antesignano perché ha deciso di sequenziarsi il genoma. E ha deciso di sequenziarsi il genoma per sapere il motivo per il quale è ancora vivo, nonostante si sia fatto tutte le droghe possibili e si sia fumato e iniettato tutte le possibili schifezze, ma non è ancora morto. E allora si è chiesto come sia possibile che io sia ancora vivo e si è fatto sequenziare il genoma. E per quanto questa storia sia assurda, è una storia estremamente interessante perché il genoma, il nostro libro della vita, noi lo possiamo sequenziare nel tumore, quando il tumore è sviluppato, ma lo possiamo sequenziare anche nelle persone che di tumore non sono ammalate e possiamo chiederci per esempio una cosa come Ozzy Osbourne, molto importante. Se io sono esposto al fumo di sigaretta e mi fumo tre pacchetti al giorno, o se stavo a Chernobyl e non mi è venuto il tumore, ci sarà ciò qualcosa nel mio corpo che mi rende resistente al tumore? E sequenziando il genoma umano capiremo non solo perché il tumore viene, e lo stiamo capendo, ma anche perché il tumore non viene e pertanto predire il rischio di sviluppare tumori o di essere resistenti. E tutto questo sta avvenendo oggi. Non è science fiction, non è fantascienza. I genomi li possiamo sequenziare in tutti i pazienti, li stiamo sequenziando in tutti i pazienti e questo ci permette di cambiare il modo di fare diagnosi di tumore. È per questo che chiamavo il nostro microscopio genomico, microscopio. Fino ad oggi il tumore si diagnostica guardando nelle lenti del microscopio e il patologo vi dice questo è un tumore alla mammella, questo è un tumore alla prostata. D'ora in poi la diagnosi la faremo morfologica, ma la faremo anche a livello di genomica, perché sapremo esattamente che tipo di mutazioni quel tumore ha e pertanto potremmo dire che questo è un tumore alla prostata con quelle mutazioni. E questo sta cambiando il modo di fare diagnosi e di fare il patologo. I patologi in America usano il microscopio ottico ma usano anche il microscopio genomico. L'altra cosa spaventosa, bellissima, entusiasmante che è accaduta è che siccome possiamo leggere il genoma nella sua interezza dalla prima all'ultima lettera, ma possiamo anche leggere il transcriptoma, cioè come questo genoma si traduca in una copia a RNA e adesso vi farò vedere che abbiamo scoperto facendo questo, questo ci sta permettendo di scoprire cose sul nostro genoma e sulla patologia cancro, ma su altre patologie, che non vedevamo, non riuscivamo a vedere neanche cinque anni fa. Ora, vi dicevo che nel 1998 il primo genoma, il primo libro della vita, venne sequenziato. E quello che rese perplessi un po' tutti è che quando incominciamo a contare quanti geni avevamo dentro questo enorme genoma, il numero venne più o meno 20.000. Ora, voglio ricordarvi che cos'è un gene, come forse vi ricorderete dagli studi liceali o anche alle scuole medie, il gene classico, l'unità genica classica, è un pezzettino di DNA che si copia in una copia a RNA e che fa una proteina. Questo è quello che pensavamo fossero i geni fino a cinque anni o cinque dieci anni fa. Alla prima conta il nostro genoma ce n'aveva solo 20.000 e quello che rese un po' perplessi tutti è che questi 20.000 geni occupavano uno spazio piccolissimo del genoma, solo il 2%. E la domanda fu che ci facciamo con tutto il resto della torta? Perché abbiamo un genoma così grande? E qualcuno disse perché forse questo genoma, questo resto del genoma serve a regolare i 20.000 geni. Può essere vero? Sicuramente è vero. Poi però ci accorgemmo di un'altra cosa. Siccome incominciamo a sequenziare sempre più velocemente, incominciamo a sequenziare i geni delle patate, delle piante, dei pomodori e quello che venne fuori è che i pomodori hanno il doppio dei geni dell'uomo e allora a quel punto qualcuno incominciò a chiedere ma ragazzi c'è qualcosa che non va perché se il pomodoro ha 40.000 geni e codificano le proteine il pomodoro è un pomodoro with your respect come diremmo in America il pomodoro è un po' più semplice di quello che siamo noi come organismi complessi e pensanti. E allora lì il field è incominciato un po' a spaccarsi perché c'erano quelli che dicevano vabbè ma noi con i 20.000 geni che abbiamo abbiamo una capacità regolatoria molto fine immaginate che voi siete dei pittori e dipingete avete a vostra esposizione dei colori e un pennello Leonardo dipingeva sicuramente molto bene con quei colori e quel pennello se quei colori e quel pennello me li date a me non riuscirò a fare quello che faceva Leonardo e questo era quello che pensavamo fino a 5-10 anni fa che tutto questo questo pezzo enorme di genoma servisse semplicemente a regolare in maniera fine questi geni come se ci avessimo in mano un pennello e disegnassimo in maniera fantastica e invece quando incominciamo a sequenziare tutto il genoma dalla prima all'ultima lettera e tutto il trascrittoma ci siamo accorti di una realtà sconvolgente è come se avessimo guardato all'interno del nostro libro della vita avessimo visto la dark matter il DNA oscuro avessimo visto i buchi neri e le galassie quello che abbiamo visto è che questo resto della torta è costellato da geni di tipo diverso da geni che fanno l'RNA ma non fanno la proteina e quello che sta venendo fuori è che questi geni sono altrettanto importanti altrettanto funzionali funzionano nel controllare lo sviluppo embrionario il cancro possono essere soggetti allo sviluppo di nuove terapie perché sono molto importanti e li stiamo ancora contando ma per darvi il senso della misura stiamo parlando di centinaia di migliaia di nuovi geni e sappiamo ad oggi tre cose che possono essere molto piccoli li chiamiamo i micro-RNA oppure molto lunghi i long non-coding RNA ma possono essere anche di due specie diverse possono essere lineari come dei piccoli spaghetti con un inizio e una fine ma anche circolari e seppur non sappiamo bene ancora che fanno tutti questi centinaia di migliaia di RNA o geni RNA circolari o lineari sappiamo già che sono coinvolti nelle malattie sappiamo già tramite il nostro lavoro che possono causare il cancro ora di fronte a questa realtà sconvolgente tutto questo è avvenuto negli ultimi cinque anni ci sono tre reazioni siccome ne parlo come scienziato di queste cose tre modi di reagire c'è gente che nega i negazionisti dicono non è possibile questa è tutta una balla non è possibile che noi che abbiamo studiato per decenni i 20.000 geni ci fossimo sbagliati ci sono quelli come me che sono totalmente entusiasti perché pensateci un po' abbiamo davanti uno spazio conoscitivo immenso e poi ci sono quelli che cadono in depressione completa dicono non è possibile dobbiamo studiare tutti questi geni a me mi emoziona enormemente e per tornare al libro della vita se non vi piaceva la torta di mele è come se avessimo letto ossessivamente lo stesso volume il volume che codifica per le proteine e ci fossimo dimenticati di leggere gli altri libri e adesso dobbiamo leggere gli altri libri perché gli altri libri sono altrettanto interessanti e questo ci ha diciamo costretto a ripensare il nostro essere precisi non so se avete letto sui giornali della televisione la medicina della precisione per anni abbiamo detto che eravamo precisi ma come si fa ad essere precisi se uno usa solo il 2% dell'informazione genetica e pertanto abbiamo deciso di inventarci un altro nome un altro termine vogliamo sviluppare una medicina della ultra precisione in cui tutta questa informazione genetica venga presa in considerazione non solo abbiamo inventato un nuovo termine ma abbiamo inventato un nuovo movimento un nuovo movimento culturale che abbiamo chiamato 98 più 2 98 plus 2 per dire che vogliamo studiare tutto il genoma the whole genome transcriptome me too movement perché dico me too? perché adesso lentamente tutti vogliono saltare sul carro del me too movement del whole genome perché si sono resi conto che altrimenti vengono lasciati indietro il terzo e ultimo punto rivoluzionario mediante il quale stiamo e sconfiggeremo il cancro e il fatto che abbiamo finalmente capito come il tumore evada il sistema immunitario ora il nostro sistema immunitario è fatto per combattere tutto ciò che non sia noi i batteri, i virus chi entra nel nostro corpo come straniero viene distrutto e per anni gli scienziati si sono cercati di capire il perché il tumore non venisse visto il tumore alla fine non è identico alle nostre cellule perché acquisisce mutazioni e per anni gli immunologi sono stati ridicolizzati perché tutti dicevano non ce la farete mai non ce la farete mai a capirlo e alla fine we crack the code collettivamente alla fine abbiamo capito perché e questo di contro ci ha permesso di sviluppare un nuovo tipo di medicina oncologica che negli Stati Uniti chiamano a cure within una cura interiore in cui usiamo dei farmaci per scatenare il sistema immunitario ad attaccare il cancro come fosse un batterio o un virus e quello che abbiamo capito o che meglio hanno capito i pionieri non so se sapete che quest'anno il premio nobel è andato alla terapia immunologica sul tumore quello che questi pionieri hanno capito è che il sistema immunitario viene irretito dal tumore mediante tre meccanismi molto semplici il tumore si rende invisibile come fosse uno stealth uno di questi aerei cattivi invisibili che non vengono visti dai radar il tumore può respingere le cellule immunologiche e convincerle a non attaccare secernendo alcune sostanze e addirittura il tumore può convincere astutamente le cellule immunologiche a cooperare vanno lì a attaccare e invece le usa ai propri fini come se fosse appunto una spia e questo però una volta capito ci permette di far abbassare lo stealth abbassa lo schermo ci permette di richiamare dentro le cellule immunitarie che distruggono il tumore e ci permette pertanto di sviluppare una terapia immunologica del tumore e veri e propri vaccini vaccini con cui possiamo prevenire il tumore ma possiamo anche attaccare il tumore stesso quando esso si è sviluppato questi tre aspetti rivoluzionari la capacità di aver capito la logica molecolare giocare a scacchi con il cancro il fatto che siamo in grado di sequenziare tutto il genoma e tutto il trascrittoma e che abbiamo un nuovo strumento a nostra disposizione la terapia immunologica crea l'opportunità e l'opportunità è ovvia a tutti voi a questo punto dobbiamo sconfiggere il cancro ora perché abbiamo gli strumenti giusti a disposizione abbiamo tantissimi farmaci mirati tantissimi sto parlando di centinaia di nuovi farmaci e questo lo dico e lo ridico questo è il motivo per cui ci deve essere enorme speranza i pazienti oncologici devono avere speranza perché ogni giorno può essere il giorno buono in cui uno di questi farmaci sarà utile ed efficace per il tumore da cui sono affetti ma questa opportunità crea di contro la sfida e se mi avete seguito fino a qui capirete qual è il problema il problema è che se vi ho detto che il cancro non è uno ma ci sono centinaia di cancri e vi ho detto che abbiamo tanti tipi di farmaci intelligenti da testare e vi ho detto pure che questi farmaci li dobbiamo testare in combinazione che non riusciremo a curare il cancro forse con un solo farmaco la domanda che vi deve venire spontanea è quanto tempo ci vorrà perché dobbiamo trovare combinazioni di farmaci per tutti questi tipi di tumore e noi vogliamo curare il cancro velocissimamente e la sfida della complessità di questa malattia ci ha permesso o costretto di creare nuove tecnologie nuove infrastrutture e nuovi approcci per testare velocemente questi farmaci e questo approccio che chiamiamo co-clinico o la staffetta uomo-topo che vi descriverò in un momento e che è stato descritto mirabilmente in tantissimi articoli su Repubblica da Arnaldo D'Amico che è un giornalista che ha seguito il nostro lavoro tantissimi anni questo approccio che vi farò vedere in un minuto perciò pazientate un attimo deriva da una storia bellissima che vi avevo accennato questa storia di questa leucemia che 30 anni fa era un killer infallibile che abbiamo sconfitto una leucemia che è stata sconfitta tramite l'uso di modellini animali in cui abbiamo ricreato la complessità di questa leucemia e non posso esimermi da farvi vedere la copertina di questo libro questo libro che ho editato insieme a Peter Vogt è un libro scientifico è un libro che è già obsoleto di fatti ne stiamo facendo una nuova edizione non ve lo sto facendo vedere perché lo dovete comprare e dovete leggerlo ve lo sto semplicemente facendo vedere perché voglio farvi vedere la copertina perché sono orgogliosissimo a tutt'oggi di aver convinto l'editore Springer a mettere sulla copertina un disegno di mia figlia Chiara quando aveva 5 anni stavamo a New York ancora e io una domenica tornai nel pomeriggio e mia figlia che oggi è futura medico perciò sta alla scuola di medicina mia figlia mi guardò con l'aria abbastanza arrabbiata e mi disse papà ma perché non stai mai a casa perché stai sempre in laboratorio e allora mi sentì colpito e gli dissi Chiara te lo racconto siediti ti racconto quello che stiamo facendo in laboratorio e perché papà lavora così tanto e lei prese appunti e gli appunti furono sotto forma di disegni su un pezzo di carta che ho ancora e questa è la versione powerpoint del disegno di mia figlia Chiara quando aveva 5 anni e nella sua ingenuità questo disegno ha la capacità di catturare tutti gli snodi fondamentali di questa magnifica storia che è nata al letto del malato e finita al letto del malato con la cura con la sconfitta di questa leucemia e la storia è andata molto velocemente in questo modo abbiamo trovato i geni di questa leucemia come vi dicevo mi è successo all'ultimo anno di medicina quando ero ancora studente perciò mi è esplosa fra le mani questa scoperta che ha cambiato la mia vita e poi a guardare bene dentro questa leucemia ci siamo accorti che questa leucemia era di tipi diversi c'era una col gene mutato A, una col gene mutato B quello che vi ho detto prima ma la differenza è che 30 anni fa questo non si sapeva non si sapeva ancora che il cancro era diverso e ce ne siamo accorti e a quel punto ci siamo chiesti prima di tutto che fanno questi geni mutati non lo sapevamo e abbiamo deciso di mettere questi geni mutati dentro un topolino per vedere se causassero la leucemia ci abbiamo messo il gene mutato A il gene mutato B il gene mutato C e per farvela breve i topolini hanno sviluppato la stessa identica leucemia del paziente identica che il patologo non poteva distinguere l'umano dalla leucemia del topolino e a quel punto ci è venuto in mente molto semplicemente se questi topolini sono una replica del tumore umano forse possiamo usarli per testare nuove terapie forse possiamo curarli e se li curiamo magari questi farmaci funzioneranno nell'uomo e così abbiamo fatto abbiamo usato i vari topolini gli abbiamo dato un farmaco sperimentale un altro farmaco sperimentale li abbiamo provati in combinazione e quando ci siamo accorti che funzionavano in un sottotipo ma non negli altri poi abbiamo trovato combinazioni che funzionassero anche negli altri abbiamo incominciato a testarli nel malato e così facendo abbiamo sconfitto sta leucemia per farvela breve i malati vengono offerti un cocktail due farmaci insieme l'arsenico e l'acido retinoico che è un derivativo della vitamina A questa è una storia molto interessante se volete ne parliamo quando vi farete le domande e questa combinazione ha sconfitto curato un tipo e poi nell'altro tipo abbiamo usato un'altra combinazione l'acido retinoico insieme a un nuovo farmaco sperimentale che neanche vi dico perché ha un nome complessissimo che però è dimostrato essere efficace e tutto questo è avvenuto nel topolino dopo aver trovato questi farmaci abbiamo convinto i clinici a fare i trial clinici e i trial clinici hanno dimostrato che questi farmaci in combinazione erano efficaci e curativi per farvi vedere l'impatto mediatico lo vedete a occhio nudo questa è la percentuale di pazienti che sopravvivevano 100% dei pazienti se non venivano trapiantati morivano di questa leucemia adesso la sopravvivenza è 100% questa è una slide già vecchia uno viene diagnosticato con un test genomico vi dicevo che il genoma sostituirà il microscopio e viene assegnato a un sottotipo offriamo a questi pazienti una combinazione di farmaci e vanno a casa guariti non vanno a casa con la malattia vanno a casa guariti senza il farmaco smettono il farmaco che è la definizione formale di guarigione uno guarisce quando smette la terapia non guarisce sotto terapia e se volete vi posso dire quello che penso rispetto al cronicizzare il cancro ora questa storia non solo è una grande un grande trionfo una cosa che ha cambiato se vogliamo la mia vita ma questa storia ha costellato tutte le pietre miliari della storia oncologica degli ultimi vent'anni come vi dicevo adesso sappiamo che tutti i tumori sono geneticamente diversi non solo quella leucemia la prostata, la mammella, il tumore al cervello tutti i tumori sono distinti geneticamente ma sappiamo generare modellini di cancro molto meglio di prima tutto quello che abbiamo fatto nella storia della leucemia era pionieristico non sappiamo neanche se mettendo un gene umano nel topolino il topolino avrebbe mai sviluppato la leucemia adesso non solo lo sappiamo ma sappiamo farlo in tutti i tipi di tumore e come vi dicevo abbiamo tanti nuovi farmaci da testare e allora quando sono andato a Harvard dieci anni fa ci siamo messi chiusi in una stanza per una settimana che è utile a volte cercare di riflettere e abbiamo detto come facciamo a fare un'altra volta questa storia che è stata fantastica senza metterci vent'anni perché quello che non vi ho detto è che quando mia figlia ha fatto questo disegno c'era cinque anni ma la leucemia l'abbiamo curata vent'anni dopo e perché l'abbiamo curata vent'anni dopo? perché per fare i trial preclinici nel topolino e poi per fare i trial clinici ci si mette un sacco di tempo e noi non vogliamo aspettare altri 30 anni per testare tutti questi farmaci in combinazione ce ne metteremmo probabilmente 100 e allora ci siamo chiusi in un ufficio abbiamo deciso di pensare a come avremmo potuto creare la più formidabile piattaforma per testare farmaci nel cancro velocemente e la prima cosa che abbiamo pensato è che avessimo bisogno di una nuova infrastruttura e abbiamo deciso di creare l'ospedale del topo l'ospedale del topo che chiamiamo affettuosamente il Mospital con la M davanti rispetto al Hospital perché Hospital sta per Human e Mospital sta per Mouse in inglese è una fantastica infrastruttura in cui noi possiamo offrire al topolino malato di cancro tutta la tecnologia che offrireste a un paziente umano malato di cancro e di più possiamo fare imaging, possiamo fare TAC, possiamo fare risonanza possiamo fare radiografie, possiamo misurare la pressione ai topolini creando un'infrastruttura che sia identica a quella umana come non potevano credere ai propri occhi i reporter del New York Times quando sono venuti a visitare perché quando uno parla del Mouse Hospital se non lo vedi non ci credi e di fatti vi invito a visitarlo sta a Boston ed è una struttura c'ha la farmacia per il topolino ci stanno i patologi per il topolino ci sono i chirurghi e ci sono anche i radioterapisti e poi abbiamo deciso di usare questa infrastruttura che è altamente standardizzata per fare questa famosa staffetta uomo-topo o approccio co-clinico, come lo chiamiamo co-clinical trial project che vi faccio vedere in una sola slide l'idea è molto semplice siccome ci sono tanti farmaci e siccome abbiamo disperato bisogno di capire quale farmaco funziona in quale sottotipo di tumore in quale paziente, quale combinazione abbiamo deciso di allineare l'ospedale umano all'ospedale del topo mediante un approccio che se mediante il quale se un farmaco sperimentale viene testato nell'umano, nel paziente umano in un trial clinico viene in sincronicità testato nell'ospedale del topo in tutta questa panoplia di modellini di genetica diversa dello stesso tipo di tumore in cui viene testato nell'uomo e poi possiamo fare due altre cose quando possibile possiamo crearci una replica dello stesso tumore del paziente immaginatevi il signor Rossi che va all'ospedale viene diagnosticato tumore alla prostata possiamo crearci una replica genetica del tumore alla prostata creando tanti tipi, tanti modelli di tutti i tipi genetici diversi ma possiamo prendere il tumore del signor Rossi il tumore stesso del signor Rossi e creare dei piccoli organoidi dei piccoli tumori in vitro che crescono molto velocemente e poi possiamo mettere questi organoidi in un topolino creando un avatar un modello avatar del signor Rossi e mentre il signor Rossi fa la terapia che deve fare o viene trattato con un farmaco sperimentale in sincronicità noi testiamo lo stesso farmaco in tutti questi topolini e negli organoidi e l'idea è di capire velocissimamente prima di tutto se il signor Rossi risponderà o no a quella terapia ma che tipo genetico di tumore risponderà a quella terapia sperimentale facendo muovere l'informazione back and forth cioè trasferendo tutto ciò che impariamo nell'ospedale del topo a tutto ciò che impariamo nell'ospedale umano e questo ancora una volta non è fantascienza questo sta avvenendo ora questo stiamo facendo ora e non ho il tempo di farvelo vedere ma facendo e utilizzando l'approccio coclinico abbiamo trovato una combinazione di farmaci che è potentissima ed efficacissima è un altro tipo di leucemia speriamo veramente di fare un'altra storia come quella della PL abbiamo trovato combinazioni di farmaci che funzionano per altri tumori per il tumor alla prostata e l'altro punto con cui vorrei lasciare è che questo non solo non è fantascienza ma lo stiamo cercando di offrire a tutti i pazienti non lo stiamo facendo solo per alcuni e mi potrete chiedere, me lo chiederete, chi paga? e chi paga sono i donatori pensiateci un po' tutto questo che stiamo facendo è sperimentale pertanto questo ancora non è rimborsabile non è rimborsato dalle case assicuratrici e pertanto tutto ciò che offriamo ai nostri pazienti su base sperimentale è pagato alla luce delle donazioni che anche in Italia voi fate quando donate all'AIRC o a queste fondazioni così importanti e quello che offriamo ai nostri pazienti è un viaggio della ultra precisione per tornare alla medicina della ultra precisione in cui cerchiamo di sequenziare l'RNA e il DNA nella sua interezza in tutti i pazienti cerchiamo di offrire ai nostri pazienti gli organoidi le terapie immunologiche, i vaccini e l'ospedale del topo come infrastruttura nella quale testiamo rapidamente nuovi farmaci al fine di diventare standard of cure cioè vogliamo curare il cancro ho quasi finito spero di avervi convinto del perché c'è entusiasmo siamo convinti che il tumore si possa sconfiggere perché l'abbiamo fatto siamo convinti di poter alleviare le sofferenze che si associano a questa terribile malattia e da tutto questo nasce l'obbligo e l'obbligo è un obbligo morale che io sento fortemente l'obbligo di sconfiggere di curare la malattia ed è per questo che vogliamo diventare standard of cure lo standard della cura ed è per questo come vi dicevo che i miei ragazzi lavorano giorno e notte ed è per questo che abbiamo un citation index così alto ce l'abbiamo perché vogliamo curare il cancro pertanto per noi pubblicare è molto importante ma ancora più importante è sconfiggere la malattia ora molti ci chiedono e mi chiedono continuamente quanto tempo ci vorrà e molti dei miei colleghi non vogliono rispondere pensano che questa non sia una domanda legittima io ho sempre pensato che è una domanda non solo legittima ma è una domanda a cui dobbiamo rispondere dobbiamo rispondere perché si sono spesi tantissimi soldi sulla ricerca sul cancro e lo dobbiamo rispondere perché i pazienti devono dobbiamo ai pazienti questa risposta e la mia risposta è che lo stiamo facendo giorno dopo giorno l'ho già detto il motivo per cui i pazienti oncologici devono avere fiducia e devono cercare di combattere di vivere una vita piena non solo perché la vita è bella ma perché ogni giorno in più potrebbe essere il giorno in cui una nuova terapia viene scoperta efficace per il tumore del paziente in questione ora ho finito ma siccome ho parlato di Nixon e siccome potrei parlare male di Trump che è una quasi ovvietà voglio chiudere leggendovi o meglio cercando di leggere perché di sicuro non l'ho riuscita a leggere da lontano quello che c'è scritto in questo magnifico museo dedicato a un importantissimo presidente americano John Fitzgerald Kennedy che come sapete tutti è stato brutalmente assassinato nel 1963 il JFK Museum è splendido è un bellissimo edificio su una penisola gettante il mare e se entrate all'ingresso cioè a questo ingresso monumentale e ci stanno queste parole che JFK ha pronunciato nel discorso inaugurale e il discorso inaugurale è avvenuto il 20 gennaio del 1961 io non ero ancora nato e queste parole sono tragiche perché JFK è stato ucciso solo due anni dopo ma quello che JFK dice qui e come sapete JFK era era un visionario dice io non so se ve lo leggo o lo intraleggo io non so se quello che proponiamo di fare lo riusciremo a fare nei prossimi cento giorni non so neanche se lo riusciremo a fare nei prossimi mille giorni e non so a dire la verità neanche se lo riusciremo a fare nel tempo che saremo su questa terra ma questo non vuol dire che non dobbiamo cominciare non dobbiamo cominciamo a farlo ora che è esattamente quello che stiamo facendo per tentare di sconfiggere il cancro grazie quasi fuori tempo ma l'accettiamo mi dispiaceva interrompere poi fare perdere e poi era così chiaro no infatti no io volevo chiederle cioè innanzitutto fare le complimenti per la carriera i lavori che ha fatto e l'entusiasmo e a proposito di questo entusiasmo per quanto riguarda la medicina cosiddetta personalizzata io non so sono mosso anche da un certo in realtà realismo nel senso questa medicina personalizzata alla fine ha dei costi molto elevati lei ci ha spiegato del mondo dei finanziamenti delle donazioni ma se veramente pensiamo di sconfiggere il cancro in maniera massiva che poi è la cosa più importante che tutta la società ne possa beneficiare queste terapie dovrebbero dovranno diventare diciamo così standardizzate non si potranno sempre agire su donazioni a quel punto la medicina personalizzata secondo me come ci ha mostrato è una terapia molto costosa in che modi e in che tempi lei pensa che possa diventare una terapia piuttosto accessibile se ha una risposta grazie la domanda è grazie per avermela fatta è una domanda legittima e penso che il problema del costo della medicina oncologica e delle medicine mirate è un problema serio che debba essere risolto a livello sociale il costo dei nuovi farmaci in generale è molto elevato le case farmaceutiche continuano a dire che è perché investono tantissimo e perché costa tantissimo sviluppare farmaci la verità è che costa tantissimo però si può negoziare un costo accessibile volevo ricordarti che i farmaci dopo un tot numero di anni il patent e l'intellectual proprio decade il brevetto il brevetto decade il costo a quel punto scende tantissimo e pertanto è vero che i farmaci mirati sono costosi stiamo parlando di centinaia di migliaia di dollari ed è vero tra l'altro che questi farmaci mirati li usiamo a volte a vanvera perché il farmaco mirato per definizione deve essere usato nei pazienti che rispondano però io penso che il processo conoscitivo e di sviluppo di farmaci e il fatto che i farmaci vanno off patent cioè cadono dal brevetto ci permetterà diciamo se proprio vogliamo essere cinici siccome il brevetto dura vent'anni fra vent'anni tutti questi nuovi farmaci saranno fuori brevetto fra vent'anni di sicuro avremo capito in quali pazienti funzionano in quali pazienti non funzionano e pertanto il costo si ridurrà sia per il sistema sanitario nazionale sia per i sistemi sanitari su base assicurativa e di rimborso è sicuramente vero che una medicina della ultra precisione ha dei costi elevati però è anche vero che per esempio la sequenza del genoma è come dicevo 300 dollari 300 dollari è niente rispetto ai costi di un esame radiologico o del sangue pertanto quello secondo me verrà incorporato nella pratica medica rutinariamente e il costo dei farmaci scenderà per definizione perché come vi dicevo il brevetto si esaurirà e poi sta ai governi nazionali negoziare il costo dei farmaci perché come sapete forse avrete sentito anche avrete avuto degli ospiti importanti a riguardo i sistemi sanitari nazionali hanno tutto il diritto di negoziare il prezzo giusto per il farmaco per i propri pazienti e possono addirittura rifiutare di prendere un farmaco se il prezzo è troppo alto ora chiaramente questo crea una tensione forte però è un approccio che si può perseguire stiamo parlando di politica della salute e della scienza però è una domanda che hai fatto molto importante ti faccio un esempio nella fibrosi cistica ci sono dei farmaci che pure non funzionano neanche tanto bene e che costano tantissimo il governo il sistema sanitario inglese si è rifiutato di approvare il farmaco e pertanto non lo offre ai propri pazienti proprio perché sta cercando di costringere la casa farmaceutica che si chiama Vertex a abbassare i costi però io sono ottimista perché sono convinto che si troverà quando il farmaco sia efficace si troverà un compromesso e la sfida scientifica è di capire dove funziona perché se spendiamo 250 mila dollari all'anno ma curiamo il cancro beh me li spenderei di tasca mia ma per spendere 250 mila dollari per guadagnare due mesi di vita non ne vale la pena perciò il goal è di trovare dei farmaci o combinazioni farmaci che siano curative quando questo avverrà il costo lo negozieremo ma poi un approccio tipo questo dell'ospedale del topo che permette di creare rapidamente tante coppie diciamo del tumore permette di ridurre i tempi e forse anche i costi beh i tempi sicuramente i tempi conoscitivi sicuramente però come dicevi te il costo lo fa la casa farmaceutica il costo dell'ospedale del topo è niente rispetto al costo del trial clinico quello che vorrei farvi capire che quando tu usi quella piattaforma che vi ho fatto vedere stai riducendo i costi di scoperta quello che però non osta è che poi il farmaco se viene approvato dall'agenzia farmaco costerà molto ma quella è una discussione che appunto è di tipo politico di politica della sanità pubblica o privata ecco ho colto nelle ultime battute una cosa che viene molto discussa da qualche tempo ci sono dei farmaci estremamente costosi che appartengono se vogliamo credo alla categoria dei farmaci dei chemioterapici convenzionali per così dire anche se non sono del tutto convenzionali che vengono impiegati ad altissimo costo per prolungare la vita davvero di poche settimane in pazienti che purtroppo sono già compromessi e su questo c'è un dibattito grande cioè se abbia senso o no forse bisogna anche creare nella popolazione una sensibilità su questi aspetti e cioè pensare che prolungare di qualche settimana o anche un mese una vita può essere molto importante perché uno in quel mese prende delle decisioni che hanno a che vedere con magari con i figli con i nipoti con la compagna il compagno e così via però forse c'è un equilibrio da trovare per cui senza arrivare a dire che si deve negare quel tipo di cura probabilmente bisogna soppesare quel costo comparandolo con altri che sono degli investimenti a lungo termine quello che stai dicendo è giustissimo quello che vorrei ricordarvi è che tutto quello che stiamo cercando di fare è di capire quali pazienti rispondono molto bene quello vogliamo capire non i pazienti rispondono un pochino quello non ci interessa quello potrebbe interessare alla casa farmaceutica perché vende più farmaci tutto diciamo lo sforzo nel giocare a scacchi con il cancro è di cercare se vi facessi vedere i dati se vi intendete in scienza ci stanno pazienti che rispondono benissimo pazienti che non rispondono per niente e pazienti che rispondono un pochino la domanda è quelli che rispondono benissimo perché quelli che non rispondono per niente perché e io impiegherei questi farmaci costosissimi solo in quelli che rispondono benissimo perché lì il prezzo quale che sia vale la candela mentre appunto dare a tutti i pazienti indiscriminatamente neanche magari sequenziando se hanno il gene buttato giusto un farmaco a 250.000 euro all'anno non è sicuramente una decisione saggia da un punto di vista di governo nazionale un dato incoraggiante comunque che si potrebbe dare è che se oggi sequenziare il genoma costa qualche centinaio di euro o di dollari beh il primo genoma fu sequenziato con 3 miliardi e mezzo di dollari esatto il costo di tutto questo quindi pensate quanto è crollato questo e ha richiesto 10 anni di lavoro ma il concetto vi è chiaro a tutti oggi si fa in una settimana l'idea del farmaco che non è più sotto brevetto il prezzo proprio cade di 10-100 volte l'aspirina e qui dobbiamo anche a un simpatico folle premio Nobel Mallis la tecnica per sequenziare rapidamente tra la PCR la PCR tra una una fumata e l'altra è uscita la PCR che usiamo tutto il tempo per fare queste diagnosi molecolari allora io profitto per chiedere a Paolo Pandolfi lei ci invitava a visitare l'ospedale del Topo di Boston dice che assomiglia un po' a Torino però insomma è sempre a Boston e in Italia? in Italia lo possiamo fare senz'altro è una mia è un mio pallino è una mia e lo possiamo fare anche a Torino perché no a Torino non so se topi ne abbiamo topi ce ne sono tantissimi e c'è pure l'infrastruttura ma senza scherzare questo itinerario questo viaggio di scoperta e di cura è totalmente esportabile o importabile e io da italiano quale sono e quale mi sento cercherò in tutti i modi di farlo in Italia e di portare in Italia non solo l'approccio ma anche i farmaci perché è la cosa che distingue in questo momento a parte i finanziamenti alla ricerca non fatemi dire le solite stupidaggini perché è ovvio che gli americani investano di più in ricerca ma quello che distingue in questo momento l'America dall'Europa è che in America continuiamo a fare molti più trial clinici e pertanto non solo abbiamo bisogno dell'infrastruttura ma di una porta di un canale aperto per portare questi nuovi trial in Europa o in Italia nello specifico e pertanto io sto in tutti i modi cercando di portare Harvard in Italia e il nostro know-how e le nostre esperienze in Italia e fare anche l'ospedale del topo forse è arrivato il microfono io mi sono interessato perché ho visto tanti casi e le dico quel che ne penso io e cioè che ci deve essere qualche qualche errore che noi facciamo nell'alimentazione non penso che possa esserci qualcosa d'altro e quale può essere una sostanza chimica perché non si può pensare che sia che so io una fibra d'amianto che possa agire sul genoma questo mi sembra assurdo io su queste sostanze mi sono fissato sui nitrati e i nitrati sono un componente naturale importantissimo perché sono i precursori delle proteine eh sì adesso adesso lo dico quindi questi nitrati sono diffuse e li usiamo come conservanti se noi mangiamo i nitrati questi si nell'intestino si riducono i nitriti quindi sono i nitriti sono ancora più pericolosi dei nitrati per questo adesso è una teoria che può essere interessante volevo sapere volevo sapere quindi per me io mi sono fissato lì e penso e ho visto anche tanti siccome li mettiamo nei salumi ho visto tanti casi ho constatato che chi mangia di queste cose è alla lunga alla lunga diventa ecco sono state fatte delle ricerche sui sull'effetto che hanno questi nitrati beh ci stanno tantissime ricerche in atto nel tentativo di capire quali siano gli agenti carcinogeni carcerogeni e quali siano le condizioni ambientali che aumentino certi tipi di tumore rispetto ad altri questo senza dubbio le faccio un esempio non so se sa che in Massachusetts che è lo stato dove vivo Boston c'è un'altissima incidenza di tumore al fegato e abbiamo cercato di capire se fosse perché la distribuzione di certi tipi di etnie fosse di un certo tipo verso un altro perché per esempio in Asia i tumori al fegato sono molto frequenti e questo non è e alla fine abbiamo concluso che deve esserci qualcosa nell'acqua o nel nel suolo e lo stiamo ancora cercando però quello che volevo dirle è che il fatto che ci siano delle sostanze che causano o accelerano l'insorgenza del tumore è un fatto certo quello che però come ben sa è un fatto certo è che il tumore è diventato così importante nella nostra società nel momento che abbiamo incominciato a allungare la vita media perché il momento in cui fossimo tutti morti di infezione e di respiratorie o di tubercolosi prima dei 50 anni l'incidenza del tumore sarebbe a tutt'oggi molto bassa il fatto che noi abbiamo scoperto gli antibiotici per farvela breve e mangiamo meglio ha allungato la vita media e il prezzo che paghiamo all'allungamento della vita media è che insorgono i tumori è il concetto del wear and tear come dicono gli americani per tornare alla macchina se continuate a fare andare il motore per 10.000 100.000 chilometri alla fine si rompe e se invece uno la macchina la butta e la ricompra nuova il motore magari non si rompe neanche pertanto il cancro è una patologia che è auto-inflitta auto-inflitta perché abbiamo distrutto il globe terraqueo con inquinanti e perché viviamo più a lungo e allora se uno mette insieme queste due cose quanto tempo stiamo sulla terra e quanto tempo stiamo su una terra inquinata il risultato è che il cancro sta salendo di incidenza e dobbiamo lavorare su entrambi i fronti prevenzione ma soprattutto inquinamento anche e purtroppo con il nostro attuale presidente di queste cose non si può parlare e speriamo molto vivamente che vada a casa presto mi bordo la lingua prego buonasera la ringrazio sto qua sì 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 ah adesso non la vedevo innanzitutto buonasera la ringrazio per la spiegazione e per la sua carriera grazie voglio sapere riguardo della leucemia in un paziente mettiamo che con quella cura che ha spiegato lei funzioni ma allo stesso tempo ci sia la disponibilità del midollo osseo quale sarebbe la cura migliore e perché? allora la domanda è molto importante ed è c'è una risposta abbastanza semplice il trapianto di midollo osseo che come sapete è stato molto efficace nella leucemia e lo è tuttora si può fare con una certa sicurezza solo sotto una certa età perché il trapianto di midollo osseo è un approccio estremamente efficace ma anche molto molto invasivo molto molto difficile da gestire a livello clinico pertanto per fargliela breve se uno ha più di 50 anni il trapianto comincia a diventare molto difficile perciò se mi venisse a me la leucemia toccando legno io non sarei un soggetto facilmente trapiantabile e più si va avanti con l'età e più il trapianto non diventa un'opzione l'altra importante cosa da ricordare a riguardo dei trapianti è che bisogna avere un donatore compatibile e pertanto questa è l'altra limitazione il trapianto di midollo rimane per tutte le forme di leucemia compresa quella che abbiamo curato noi un'opzione molto valida se uno ha un donatore e se è giovane l'altra cosa da tenere a mente che vi può interessare perché è una discussione interessante è che il sangue è uno dei pochi tessuti che uno potrebbe congelare uno potrebbe prendere il sangue dal midollo osso di tutti noi o il midollo osso di tutti noi metterlo in un congelatore e aspettare se a qualcuno di noi in questa sala ci viene la leucemia non facciamo altro che uccidere il sangue malato e rimpiazzarlo col sangue nostro che avevamo congelato vent'anni prima ci hanno provato in America questo ha dei costi enormi perché chiaramente questo sangue da tutti noi in questa sala dovrebbe essere congelato e tenuto in un freezer a temperatura controllata per anni e anni e ha dei costi enormi pertanto siccome la leucemia per fortuna ha un'incidenza molto bassa questo approccio non è stato più perseguito ma c'è gente in America che lo fa si fa congelare il midollo nel caso poi gli venga la leucemia c'ha il suo stesso midollo per auto auto trapiantarsi però questo lo puoi fare solo se sei giovane perché comunque il trapianto richiede un momento in cui ti distruggono il tuo sangue leucemico e questo è molto invasivo molto difficile da sopportare un'altra domanda centroplatea intanto complimenti per il suo lavoro e per la sua ricerca io vorrei farle una domanda così sulle slide che ha presentato lei ci ha presentato una modificazione del genoma e ci ha parlato di queste cellule tumorali che vanno in metastasi io ho sempre avuto una curiosità noi sappiamo che la cellula si riproduce tramite processi osmotici che abbiamo un passaggio di cariche elettriche attraverso la membrana cellulare noi sappiamo che la membrana cellulare è dotata di un potenziale elettrico che mi pare che oscilli tra i meno 40 e i meno 80 millivolt si è visto nella ricerca che noi abbiamo una mutazione di questa membrana cellulare nel momento in cui la cellula si riconosce malata ammalata anche di tumore allora io mi sono chiesta se visto che stasera abbiamo parlato di farmaci intelligenti se invece di utilizzare dei farmaci per combattere la cellula neoplastica che si è già portata in metastasi quindi abbiamo già questo genoma ormai cresciuto nella sua alterazione se noi non potremmo trovare invece dei farmaci intelligenti agendo sui recettori della membrana nel passaggio del nutrimento di questa cellula in modo da agire prima che la cellula entri nel processo della metastasi cioè per esempio agire con dei farmaci sui mitocondri che sono contenuti nel nostro ocitoplasma nella nostra cellula se non si è mai pensato di agire così profondamente da portare questo potenziale elettrico di nuovo nella sua normalità in modo che questa cellula non progredisca nell'ammasso di cellule la ringrazio molto quello che dice è molto importante e lo stiamo facendo lo stiamo facendo anche nel mio laboratorio una delle cose che è molto di moda adesso è di capire non solo quello che dice i potenziali e le caratteristiche fisiche della cellula ma anche le caratteristiche metaboliche quello che è molto trendy è l'idea di capire come le cellule tumorali si nutrano e di che cosa si nutrano e di usare questo a nostro vantaggio per sviluppare dei farmaci che blocchino questo 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 tipo di metabolismo sappiamo già che il metabolismo del cancro è alterato questo lo sappiamo circa un secolo fa già eravamo accorti che le cellule tumorali usano il glucosio gli zuccheri in maniera completamente diversa e pertanto ci sta una branca dell'oncologia che si chiama appunto oncometabolismo il metabolismo del cancro che ha portato alla scoperta di farmaci importanti che ci sta portando non solo a capire che cosa serve alla cellula per fare il tumorale per fare per esempio metastasi lei ha detto la metastasi abbiamo capito di recente che il processo metastatico è favorito dai lipidi cioè se uno mangia grassi o ha più grassi nel sangue le cellule del tumore li usano e questo aumenta la capacità metastatica pertanto questa branca dell'oncologia ci permetterà non solo di trovare farmaci metabolici ma soprattutto ci permetterà di capire un'altra volta per tornare alle domande precedenti come facciamo a prevenire il cancro perché ci sono sicuramente alcuni cibi se vogliamo semplificare che sono più o meno favorenti il processo di trasformazione e già sapevamo che gli zuccheri sono uno di questi tutte le pathway tutte le vie di segnale che il tumore usa sono a base del controllo energetico che gli zuccheri ci danno questo l'abbiamo già capito da anni e pertanto l'altra e l'ultima cosa che dico a riguardo è che l'idea di avere una medicina personalizzata del cancro si può anche accompagnare si accompagnerà ad avere una conoscenza molto dettagliata di quello che il paziente con quel cancro preferibilmente debba mangiare o non debba mangiare che si faccia una dieta personalizzata per il paziente oncologico non solo perché il paziente oncologico può andare incontro a ca che sia come sapete a problemi complessi ma proprio per attaccare il cancro stesso usando questa conoscenza a nostro vantaggio c'è una domanda da quella parte io volevo chiedere prima descrivendo il sono qua descrivendo il farmaco aveva parlato del fatto che fosse composto di acido arsenico e poi aveva detto che c'era una piccola curiosità sull'altra parte che era un derivato della vitamina A se non sbaglio adesso mi ha messo la curiosità quindi si ha capito perfettamente e la cosa interessantissima di questa storia della leucemia tromialocitica acuta è che entrambi i farmaci sono farmaci tradizionali se vogliamo non sono farmaci di case farmaceutiche sono farmaci che venivano utilizzati nella farmacopea anticamente dai cinesi i cinesi si erano accorti e gli antichi romani lo usavano già che l'arsenico triossido che è l'arsenico dei vecchi merletti quello che ti uccide se lo prendi a dosi da cavallo a basse dosi è un potentissimo agente antinoplastico abbiamo scoperto che i romani usavano l'arsenico nelle leucemie cioè avevano già capito quello che poi noi abbiamo dimostrato e questo è un farmaco l'altro farmaco è pure un farmaco tradizionale della farmacopea cinese è un derivato della vitamina A la vitamina A è quella che sta nei pomodori ed è ironico che tra l'altro tutte queste scoperte sulla leucemia promenocidica abbiamo fatto gli italiani che i pomodori li mangiano ora abbiamo dimostrato che questo derivato della vitamina A che tra l'altro non ha effetti collaterali alcuni perché è assolutamente ben tollerato è estremamente efficace in questo tipo di leucemia e abbiamo capito perché e potrei parlarle per ore di perché lo fa ma per fargliela breve abbiamo dimostrato che questi due farmaci che sono molto poco tossici perché l'arsenico lo diamo a dosi molto basse sono estremamente efficaci nella terapia e la cura di questa leucemia e per tornare ai costi questi due farmaci non costano niente adesso lì la cosa si è complicata perché i farmaci devono essere alcuni sono sotto brevetto e il costo è alto perché la casa farmaceutica dice che ha speso un sacco di soldi a farli però i farmaci hanno anche un costo perché vanno fabbricati vanno manifatturati ok perciò l'acido d'oretinoico e l'arsenico hanno un costo di manifattura ma un costo bassissimo perché sono grazie a Dio dei farmaci naturali e la storia della piale è bellissima perché la storia della convergenza di una medicina quasi tradizionale e di un gruppo di scienziati che si sono accorti del meccanismo per il quale questi farmaci potessero funzionare e poi noi abbiamo dimostrato la loro efficacia nel modellino animale però questo ci permette di ipotizzare che ci siano una serie di farmaci naturali che dobbiamo testare nel cancro e questo l'ospedale del topo ce lo permette perché come piattaforma noi possiamo testare farmaci sperimentali della Merck della Novartis ma possiamo sperimentare in teoria tutti i farmaci naturali per vedere se hanno un effetto perché la piattaforma è tale che possiamo velocemente testarne tantissimi e pertanto quella è una branca che potremmo sviluppare in Italia e quella è una branca interessante perché ci permetterebbe come sistema sanitario nazionale di abbassare i costi perché per fare un esempio ci accorgiamo che l'aspirina funziona in un tipo specifico di tumore e l'aspirina non costa niente perciò diventerebbe un ottimo farmaco a bassi costi la seconda domanda è se ci sono alcune tipologie di tumore più difficili da contrastare se e quali sono e perché è una importante domanda e la risposta ahimè è piuttosto facile ci sono ad oggi due tumori che sono killer infallibili e lì stiamo spingendo come matti uno è il tumore al pancreas e un altro è il tumore al cervello per fortuna il tumore al cervello è molto raro il tumore al pancreas un po' meno e il tumore al pancreas ha un'incidenza che sta salendo negli anni e potrei speculare ma penso che ci abbia molto a che fare con quello che mangiamo e l'obesità e quello che beviamo tipo il vino e questi due tipi di tumore sono a tutt'oggi ancora molto fatali però la novità è che stiamo cercando disperatamente di creare dei vaccini vi ho detto che la terapia immunologica sta facendo dei passi da gigante e i dati preliminari sono molto incoraggianti pertanto sia nel glioblastoma nel tumore del cervello che nel tumore al pancreas la terapia immunologica o i vaccini potrebbero essere un modo efficace sia di prevenzione che di cura ma a tutt'oggi ahimè questi due tipi di tumore nonostante sappiamo molto nonostante abbiamo letto il libro il 2% del genoma sappiamo i geni che sono mutati sono molto duri da trattare anche perché questi due tipi di tumore in comune sono difficilmente accessibili uno perché sta all'interno della barriera ematoencefalica e l'altro perché sta nel nostro addome ma si crea una specie di schermo questa volta non chimico ma fisico una barriera fibrosa che è difficilmente penetrabile dai farmaci perciò diventano dei tumori che sono difficili da curare per la loro malignità ma anche difficili da raggiungere siamo in chiusura ma io vorrei chiedere ancora una cosa visto che prima si è parlato di sport per Paolo Pandolfi si è trovato non una ma due volte a lanciare una palla da baseball mi dica se è vero sul campo dei Red Sox che sono una mitica squadra di baseball appunto di Boston allora appunto ci ha già detto che è vero questa è una storia divertentissima ed è vero ed è il bello di Boston cioè a Boston gli scienziati o in America ma a Boston ancora di più perché è una città universitaria par excellence gli scienziati sono dei veri e propri eroi cioè se fanno qualcosa di buono e allora le squadre di baseball o di football vogliono onorare gli eroi della scienza e ci sta questa grandissima squadra di baseball che è la Juventus di Boston che ha vinto tantissimi scudetti che ha creato una vera e propria Hall of Fame una specie di gruppo di eccellenti eroi scienziati che onora facendogli fare il calcio d'inizio è come se voi nel calcio che è più verreste chiamati alla partita Juventus Milan e facciamo Juventus Torino Torino ok e il calcio d'inizio lo dà lo scienziato ma quello che è bello è che nello schermo dello stadio dove in genere uno vede il gol o il replay del gol fanno girare 5 minuti di documentario sulla vita dello scienziato che viene onorato e tutti questi 80.000 tifosi si guardano sto video e poi tutti immaginate lo stadio di calcio tutti gli 80.000 tifosi esplodono in un boato e tu scendi e entri in campo e dai il calcio d'inizio il calcio d'inizio nel baseball è il pitch il pitch sapete che è quello che tira la palla al batter ora se non siete mai stati in un calcio non potete capire che solo sto pitch che sembra tanto semplice non è semplice per niente perché il batter sta lontanissimo e perciò quando mi hanno detto che dovevo dare il calcio d'inizio facendo il pitch io non sapendo niente di baseball ho passato un'estate di incubo perché mi sono dovuto comprare una palla da baseball e poi con le mie figlie facevo gli allenamenti per cercare di arrivare al batter perché sarebbe umiliante se voi tirate la palla cade proprio e alla fine ce l'ho fatta e me l'hanno fatto fare per ben due volte cioè questo onore me l'hanno dato due volte che è un onore ma anche un incubo comunque è vero la seconda volta era già allenato almeno la seconda volta ero molto meno emozionato sì quello è poco ma sicuro bene allora ringraziamo il nostro munghista e ringraziamo naturalmente facciamo un bel applauso a Pierpaolo Pandolci grazie grazie a tutti voi grazie a chi ci ha seguito in strada